La fondazione Pietro De Luca di Torre Orsaia presenta il concorso foto e corti del Cilento quinta edizione 2019. Primo premio Pietro De Luca sezione cortometraggi 1500 euro. Primo premio Pietro De Luca sezione foto 1000 euro. La partecipazione al concorso è gratuita. Tema passione Cilento, cibo, incontri e emozioni. L'iniziativa invita a raccontare il Cilento attraverso immagini, incontri ed emozioni con uomini e cose con il cibo. Espressione di cultura e tradizione. La scheda ufficiale del concorso è scaricabile dal sito www.fondazionepietrodeluca.it. Le opere devono essere inviate entro non oltre il 5 giugno. Sabato 15 giugno la premiazione dei vincitori.